aiuto dai sto facendo la scala oggi siamo troppo in forma per non vincere dai oggi dobbiamo vincere già due da mettere tre vero non è messo quella la vera che non è messa quella la vecchissima non so se ce l'ho ancora sì ma perché tu non metti video quando li deve rimettere sembra la nostra cosa deve aspettare mille anni e poi però li perdi è sbagliato non c'è sia posizionata col culo perché lo schifo vola sempre giù a mano non è fatta posta sì ma che schifo c'è fatta la nostra domenica mi taglietta e una macchina la fanno bordello guarda come io non vorrei così un bel portaforte dovevo tirare la con me lo uso io che lo dillo incastro sempre in posti inutili ha tirato un plumber random vieni vieni fai te ne ritrova a pushare da solo ecco cosa push con le granate lightning 4 oh mio dio che raffica prego pompa questo schifo va bene il tipo è fluttuato di sotto qua dietro io l'ho attaccato alla faccia ci credo che è esploso anche qua ok ok e fa dentro per forza calma che riesce da quando mancato 30 questo pump fa schifo ok ho battuto aspetta l'ho lanciata prima ma l'hai deciso super velocemente schifo di minestrina almeno lo conferma che fa schifo è già qualcosa hai due lealing? si ho le bende dammene tutte mi servono medi no no aspetta vieni ma che è problematico sto tipo io mi faccio molte domande ad esempio perché si è bloccato? ma appunto non sparava vieni vieni dagli scodini oh erano due il tre due direi che non c'è più nessuno vero? tieni tu gli scodini? vabbè per adesso mi passaglierai io ialing cioè che cos'hai? ehm due granate come ehm hai spazio ancora vero? eh posso buttare le granate ma quanti armi hai? ehm m4 pompa shotgun e revolver tu sei uno spreco perché? perché puoi diventare armi vabbè io mi prendo questi hai colpi per il pompa? si ti do i medi ti servono? si sono pochi la metà vengate un po' meno della metà nice tubo di culo oh finta c'è chi beff 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 io comunque ho il launchpad eh quello mi sembrava un bugo nel muro la tua ok cioè perché mi hai rubato quelle granate? perché mi serve non avevi spazio scusa scusa ehm andiamo per un non cecchino nooo non avevi il finto cecchino non è un cecchino vabbè non rende proprio l'idea della potenza si quello è vero che solo un cecchino può avere e il fucile e il fucile no ok mi finirà subito perché ho sprecato tempo là dov'è il negro? dov'è? dov'è? c'è un negro? no no c'è uno scelto però papà 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 fin fe se voleva entrare dalla finestra delusioni oh no aiuto ah però non ti fa prendere da non da caduta quando ti sblocca in aria dai sparano andiamo a deciderli sono di nuovo ad asti comunque diciamo sempre ad asti è veramente facile si ho abbandonato una scelta ho preso una scelta con l'hsantella lo sincronazist sti razziski sono i sincronazisti buoni i sincronazisti non cattino ok oh sono tanti che c'è un volo ok quello l'aglio ha fatto tre colpi normali un e-chat preso 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 ok quelli la stanno a ripa non abbiamo lasciato healing là io ho uno sceldone vabbè bosh boro bosh eh io non farò molto perché ho il nuovo pump e non so usarlo bene fa 30 di danno non è questione di usarlo vabbè però probabilmente mancherò un po' di più gli headshot stanno questi barboti qua non qua eccolo ma che me lo sarei trovato dietro ma come funziona sto fucile si pari prima che arrivi il colpo e la gente muore si più o meno anche quando era a terra l'hai esploso ed eri giù cosa? eri giù che stai fightando con l'altro questi non erano troppo intelligenti non si prendi gli scodini eh lo scodone chi se ne frega ma questo è uno si ma dalla me va beh prendo io andiamo in safe e lontano piccioneare 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 e poi ferme mele dai con i cristallini direi che possiamo arrivare a metà tra noi e lo slake si poi lo slake fa schifo passiamo da destra a sinistra sinistra lo vuoi fightare eh monelu a volte non ti capisco ok io ho sempre problemi fa schifo avrebbero dovuto fare che non scivola il personaggio almeno con gli scodini perché è fastidioso perché gli scodini non dovrebbero farti scivolare no 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 scodini che a proposito ce ne sono lì e che quindi prendo ma con gli cristallini ah con la meta beh non era la cosa più ambigua non era la cosa più diversa che esisteva ma ah beh hanno la stessa forma in effetti poteva dire con gli shotgun si con le scale con le baldrache immaginati eh con quello è uno scivole fidati no però non c'è intanto lì là si arrabberanno perché non sono andato a mangiare ma non si butta una partita poi da 17 ma si è avvicinata alla save o sbaglio? eeeh sbaglio sbaglio ma era molto più vicino di quanto ci sembrasse o sbaglio mai ragionario aglio mi piace l'aglio cosa sarebbe pieno di negri pampa shotgun azzurro chrismai fucking pampa azzurro è mio c'è solo gli heavy shotgun di per te ma bau 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 verso ti vedo andiamo verso di lalut lake che pieno di luce non so cosa c'è a credo niente interessante però mi hanno scecchionato la mamma no si sente il colpo è un panissimo e poi puoi arrivare qua dopo ore ma dove cristo sono? basta poi non si vede nemmeno ah sono sulla casa eh c'era da aspettarsi però perchè ci mette così tanto ad arrivare? non lo so sono guidati non è che è guidato vuol dire dire lento si che se è veloce non lo puoi guidare come le macchine le macchine veloce le guidi? no le macchine veloce? no le macchine veloci bravo oh ho trovato un bush bush si è pieno di gente ovunque sia là nel carrello della spesa sia cosa? a nord cosa vuol dire il carrello della pene? stasi tu sta a sentire io non sono io io sono dio quindi il respiro finale non lo devi fare rovinio di tutto io non sono io capisci? io sono dio basta arrivano da tilter eh sì sono da sono tanti si fai tanno pusciamo quelli scena da quel lato non stanno arrivando si stanno andando a barra arrivando barra venendo stanno facendo tutte le azioni quella foglia dato che io saltavo sembrava un tipo che saltava in lontananza ok a quelli a quelli preso a shield a shish all launch pad usiamo no presi nel chat non sono due si ho pensato presi nel chat abbattuta però quella ancora shield mi hanno scicchinato da dietro non ci vai dal tuo amico eh no mi ucciderò per la mia patria tu non lo sai aia quanto cacchio ho subito anche io ok questo è tutto che si faccia un giuggiug per noi zio i colpi maxati buongiorno buongiorno buongiorgio oh another scar noise zio ho i colpi maxati c'è capisci si ho i mille ho i mille tre colpi tieni questi ci sono due medikit uno per me uno per 3 299 di legno si dobbiamo andare metti anch'io non mi serve niente ho giuggiug ah ok però mi prendo volentieri lo scar e gli scolini lo cecchino si io ho tanto piazza al launch pad aiuto aiuto dai sto facendo la scala ok non raggiungevo la tua scala ma sono più veloce dove cacchio è ma io non so dove devono piazzare stay safe beh io ho comunque 76 di vita ho tutto invertito scar non dovrebbe andare lì e mi sono preso un cecchino seme tomate mi sono preso il cecchino normale scar sono fissato giù vabbè tanto con la legna massata si può fare un po di tutto è bello che non c'erano altri materiali 280 però in legna ne trovavo infinita si infatti un'other base sorry aspetta un attimo c'era gente per capire una più da situa eccoli là in quella base va di lontani se lo prendevo era bello io quindi vi faccio di queste fanno 130 ma uccidono sempre 230 non credo proprio che lo possano fare ah no ah guardali sono qua 60 ah ok io ho tre launchpad va bene uno tenete da uno vabbè eh non serve a niente si in effetti è troppo tattico fare questo tipo di scambi scambi l'ho preso in faccia o sbaglio eh anch'io ah io non ti credo eh brutto policio è un bassotto quel tipo fidati si e no nella testa schiacciata come veria il bassottib no beh c'è brutto colpo volevo dire ho sparato quello in cima anch'io ho sparato troppo in basso giro solo col tizio sono no sì dove dove era non esisteva o sbaglio oh ma che rottura di pene veramente fanno sempre animare cose tanto non ci possono pushare almeno che non abbiano un launch pad o il lanciarazzi o il lanciarazzi pad razzi mura 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 scappa dietro di vieni dietro questi qua mi hanno rotto il belino io devo fare mi devo fare ancora spero non abbiamo scelto cioè non abbiamo scelto ah io vieni ho nove scudini ah ok arrivo sei siamo come primo io sai che Cristo come come cazzo ha fatto il cazzo duro che a me c'è un gioco di scudini lanciato di scudini non c'è un gioco di scudini non spuntare renditi solo gli scudini ahia no no quella gara certo ma perché ha sparato stra extra super 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 banco stra lag no 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 questo faccio non prenderlo non si può e la gar così non si arriva la tempesta vabbè cialla abbiamo già vinto non possiamo vincere no 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 eh io vuoi vincere da solo vero cazzo dai no io mi continuo a sperare in faccia non per il lago di nuovo trovo in piena fronte ma ma perché poi c'è preso mando eh l'ho preso è deciso no però ci vado di là bene io mi sa che non riuscirò nemmeno a fluttuare muori però ok guardi qua sopra impiantato sul muro prendito lanciarazzi io se riuscissero a cattarmi magari ai colpi comunque ne ho cerato si aspetta faccio la base di ferrisi il titolo visto aspetta aspetta separati da me mi gesto guarda guarda qui due airdrop quanto sono attaccati ma si meno no si lancia spara con la cera zi da sotto in cima no pensavo di averlo preso però sparati in basso colto mio cosa fa faccio mi ha fatto nel panico abbiamo sparato contemporaneamente è ovviamente sbagliato si c'è solo uno ovviamente è lui in safe sa scelta cosa è piuttosto irritante dove stai sparando dove mi capita calma voglio spacciare quello schifo che cosa devi prendere sa fa perché spara lui eccolo l'ho visto era nudo oh he's fine oh l'ho preso in headshot l'ho preso in headshot io ci sono arrivato molto vicino col cerchino che vuole orribile che ha fatto si veramente vai andiamo in safe va andiamo a noi il launchpad no no andiamo in safe eh appunto con la launchpad io mi voglio prendere con gli airdrop quanti cristo sono si è io sono fluttuato oh sei fluttuato proprio in culo sei fluttuato proprio in culo eccomi ne un altro di launchpad voglio vincere in modo epico no io no io voglio vincere ok e lascia ripare è una posizione brutta eccolo è leader tra l'albero ma esplodi si è provato a blindarlo come ha fatto a non morire sta quanta potabilità non so che l'ho trovato eh aspetta arriva madonna se l'ho trovato ahahahah ahahahah è spuntato gli è arrivato il colpo di lanciamissili in bocca bellissima il 7 il 4 madonna e questa ce l'abbiamo tutta arrecchata eh ahhhh che benessere è 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 Grazie a tutti